Stasera? Chi è pronto? Stasera alcuno di voi guarda Breaking Bad, ho visto Breaking Bad Questa canzone parla del nostro personaggio di Breaking Bad preferito Segret Ed è la nostra ultima canzone Se non lo dici? Stasera alcuno di voi guarda Viateur con ieri un cliente Se non mi piace a pertinzione Spinderebbe la mia parte Se non si non la sia Se non c'è chi è Se non si un'è Chi è il ciotto E ente il nostro Stasera Che è il tuo nostro Tanto sistema e l'è Stasera alcuno di voi guarda Tante lo stesso Stasera alcuno di voi guarda Chia la sua Grazie a tutti 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 Grazie a tutti